Nel comune di Bellante, in provincia di Teramo, nei giorni scorsi, diversi automobilisti hanno trovato dei bollettini postali lasciati sul parabrezza delle auto in sosta, con il controvalore di una potenziale multa. Una vicenda che dopo alcune segnalazioni ha fatto attivare il comando di Polizia Municipale e l'amministrazione comunale, che ha subito avviato un'indagine per capire se i bollettini erano una nuova frontiera di truffa, visto che il conto corrente riportato sul bollettino non era del comune di Bellante o solamente uno scherzo di cattivo gusto. Noi ci siamo allarmati, appena ci sono arrivate le segnalazioni da parte di alcuni cittadini abbiamo attivato una sorta di indagine, quindi la Polizia Municipale ha potuto accertare già ieri mattina che in realtà questi bollettini erano falsi. Il conto corrente che era riportato sui bollettini per i pagamenti non approdava a nulla. Non è escluso che si sia trattato di una burla, ma i motivi di preoccupazione sono molti perché i tentativi di truffa come questi sono purtroppo all'ordine del giorno e quindi abbiamo ritenuto comunque di informarne immediatamente la popolazione. La cosa particolare è che comunque sono state diverse le segnalazioni da parte dei cittadini. Sì, sono state 4 o 5 segnalazioni e quindi questo ci ha indotto ad intervenire immediatamente per mettere in sicurezza il territorio rispetto a tentativi di truffa che come ripeto spesso si verificano. Il messaggio da dare ai cittadini è sempre lo stesso e c'è di essere molto cauti rispetto a possibilità che malintenzionati possano in qualche maniera approfittare della loro buona fede e in ogni caso per quello che riguarda le attività di accertamento delle violazioni da parte del Comune è bene sempre rivolgersi agli uffici comunali prima di poter effettuare pagamenti di sanzioni o quant'altro.